Presidente, com'è nata l'idea di organizzare questa giornata? E questa giornata, di cui io sono molto soddisfatta, perché tra l'altro ci sono più di 100 iscritti, è nata perché la musicoterapia è sempre più richiesta, sia dai parenti dei pazienti che seguiamo, sia dai pazienti stessi. C'è un'ottima richiesta su Imperia, su Sanremo, dove siamo oggi, ma anche su Savona, in quanto proprio la musicoterapia è un'arte, è un modo di comunicare non verbale, che funziona molto bene. E che troverà spazio in tutte le vostre strutture, non solo qui a Sanremo? Assolutamente sì, l'ha già trovato, in effetti poi io ho già chiesto a questi ottimi relatori, che poi mi succederanno nell'intervista, di organizzare magari in primavera un altro convegno anche nel Savonese. Entriamo allora all'interno dell'argomento della musicoterapia. Quali benefici può dare? La musicoterapia è un'arte espressiva, come appunto tante altre, che può essere applicata su diversi tipi di patologie. Sia nella prima infanzia fino alla terza età. In particolare la giornata di oggi è focalizzata sulla terza età, appunto proprio perché ci troviamo in una struttura che ospita pazienti in questa fascia di ciclo di vita. Le benefici principali sono gli effetti sul comportamento, quindi su tutte quelle persone che hanno difficoltà, insomma, a integrarsi e a abituarsi alle regole dell'istituzione, serve proprio per aiutarli a trovare uno spazio di espressione. Serve per trovare uno spazio di espressione alla propria ansia, come siamo legati ad una fascia di età dove in genere l'ansia è in aumento. Quindi attraverso la musica, attraverso il suono, si riesce appunto a dare espressione a questi loro stati d'animo. Serve per dare momenti di benessere, momenti di gioia, momenti di condivisione con i propri compagni. Infatti vengono organizzati non solo trattamenti individuali, ma anche gruppi musica, io li chiamo gruppi musica, dove i pazienti cantano, ballano, se riescono, e suonano, producono attraverso strumenti i loro suoni. Parliamo allora in particolare della terza età, che è la fascia che ci interessa qui oggi. Quali sono in particolare i benefici per questa tipologia di persone? Allora, la musicoterapia è bene applicarla, è cosa veramente buona e gradita dagli anziani, in quanto innanzitutto si pone come un luogo, uno spazio non necessariamente solo fisico, in senso ampio, dove poter agire con la reminescenza in maniera non difficoltosa. Cioè ha degli obiettivi molto semplici, anche gratificanti, quindi a questa facilità si unisce il divertimento. Quindi persone che non sono, sono appesantite dall'età, ma soprattutto sono appesantite da delle patologie particolarmente invalidanti, come possono essere tutta una serie di demenze, in primis l'Alzheimer, ma non solo. Si può tornare bambini senza sentirsi necessariamente bambini, quindi ricordare e narrare, quindi il canto e la narrazione riescono a far star meglio l'ospite, il paziente, senza necessariamente sentirsi obbligato, indotto, quindi è un luogo tranquillo, sicuro, dove ritornare a essere se stessi in piena tranquillità, senza l'obbligo di dover fare necessariamente qualcosa, produrre qualcosa. Quindi la musicoterapia è un modo per tornare a ricostruire quello che viene chiamato il paesaggio sonoro della persona. Ognuno di noi viene da un vissuto che è fatto di suoni, di emozioni, di storie che possono rivivere attraverso la musica. Parlando di musicoterapia parliamo di arti espressive, insomma, modo di esprimersi da parte delle persone. Sì, la musicoterapia fa parte della grande famiglia delle terapie espressive, ed è proprio qua oggi in questa conferenza che abbiamo cercato di dare un'immagine della complessità e della ricchezza di questi dispositivi e di quanto possono essere utili per fornire una modalità che non passa dalla parola, nella quale non viene utilizzato il linguaggio, la parola e l'intelletto, ma attraverso altri canali percettivi, come il corpo, le immagini e tutti i sensi che animano una persona, per poter in qualche modo accompagnarla ad un'esperienza fondamentale di sé e poi anche, idealmente, una possibile trasformazione per quelli che possono essere le sue problematiche, disagi, sofferenze.